Allora, questo è un consiglio pratico, allora per quelli che sono all'ascolto e hanno un computer dall'Apple, un computer portatile dall'Apple, c'è un problema sempiterno. Periodicamente ci si trova con l'alimentatore completamente scassato, non perché l'alimentatore in sé si è rotto, ma si rompe il filo e si rompe puntualmente nel punto dal quale esce dall'alimentatore. Perché ci sta seguendo in streaming e qui si vede abbastanza chiaramente il danno che è successo a uno dei miei alimentatori. Aiuto! Perché? Che cosa succede? Ecco, normalmente quando prendi l'alimentatore ci sono queste due pratiche alette che si possono aprire e tu prendi il cavo, lo avvolgi così e pensi di aver fatto la cosa giusta, e invece no, perché facendo così si forma una piega molto forte qui, in questo punto da dove esce il cavo dall'alimentatore. Soluzione pratica, quindi per evitare di doverne comprare un altro, se avete ancora l'alimentatore in buone condizioni, smettete di fare questo avvolgimento standard e fate quello che si fa. Questa è una versione invece, quella che ho adesso davanti alla telecamera dello streaming in diretta video, è un alimentatore ancora intatto, fresco, nuovo. E il trucco è semplicemente, prima di cominciare a avvolgere il filo intorno alle due alette, bisogna fare un'ansa così. Un'ansa per chi ci segue il video, è un'ansa che permette al cavo di essere avvolto in modo semplice, così. Non si deforma, non fa il gomito, non si piega drasticamente, rimane dritto e quindi non si forma quel danno che dopo un po' si apre la guaina di plastica protettiva e l'alimentatore smette di funzionare, bisogna correre in negozio a comprarne un altro. Le lezioni di cucito del disinformatico. Lanza, ma pesa a te, neanche a cucito la faccio. Ma in modo che tu non pieghi il cavetto. Esatto.